Sono molto legato a Chiuduno, un paesino insemina di tanti in provincia di Bergamo. Ciao a tutti! Per noi che abitiamo, è bello. E c'è la chiesetta del San Michele. Che è il cartello! Gestisco un negozio insieme a mia sorella. È un'edicola cartuleria, un articolo di regalo. Il negozio si chiama Teresa perché prende il nome dalla presidenza proprietaria. È una signora che ha gestito questa attività per 60 anni. Abbiamo mantenuto il nome Teresa perché in paese tutti ormai questo negozio lo chiamavano così. Ho vendito i dolci, una donna piccolina mi muta. Il nostro punto di riferimento. Siamo molto legati alla tradizione, ma ci piace anche guardare verso il futuro e stare a passo con i tempi. Perciò abbiamo inserito Counter. Questo servizio consente al cliente che ordina su Amazon di poter ritirare il suo pacco in uno dei tanti punti vendita convenzionati. Quando il pacco arriva in negozio io lo scansiono con un apposito scanner e in quel momento al cliente che l'ha ordinato arriva un messaggio. Quando arriverà poi a ritirarlo eseguo la stessa operazione, scansiono e può ritirare il pacco. Siamo contenti di questo servizio perché ci ha aumentato il numero della clientela. Oltre al ritiro possono anche spesso comprare qualcosa. Il vantaggio per il cliente è che può ritirare il suo ordine in un posto di fiducia. Grazie a questo servizio anche gli acquisti online hanno un sapore tradizionale. L'innovazione fa parte della mia generazione, quindi è una cosa che mi piace. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti